E ora ti colpirò! Ah! Ma... Mi hai... Mi hai appena attaccato con graffio? Sì, perché? Ma io ho solo spettro e... Le bosse tipo normale non funzionano. Oh. Allora proverò a saltarti addosso! Ma hai capito che non funziona? Ma non ho deciso io queste cose, mi hanno programmato così. Ma che cazzo è che ha programmato questo affare qui? Ma che cacchio di senso ha? No, raga, 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 allora, 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 mi avete messo con un deficiente perché io me ne vado da qui. Ma... Ma io... Ma io non c'è... Ma... Ma nel copione io dove... Ha... Grazie.